Farà tappa a nocere inferiore il tour della legalità contro il racket ed usura promosso dalla regione campagna nei cinque capoluoghi ma che in via straordinaria come annunciato questa mattina dal prefetto Mario Morcone, assessore regionale alla sicurezza e alla legalità, arriverà martedì prossimo proprio nella cittadina dell'agro nocerino sarnese come segnale di vicinanzi ed attenzione dopo il grido di aiuto lanciato dalle istituzioni locali. In prima fila il sindaco Maglio Torquato per l'ennesimo, il settimo attentato registrato nella giornata di ieri ai danni di un'attività di ristorazione nel pieno centro di nocere inferiore. L'iniziativa del tour della legalità dopo Avellino e Benevento ha approdato questa mattina a Salerno in piazza della Concordia. Obiettivo principale della iniziativa è sensibilizzare le vittime di usura a denunciare perché è l'atto necessario per avviare un processo di sostegno e accompagnamento ad uscire dal giro degli strozzini. L'iniziativa che va soprattutto nella direzione di incentivare le denunce perché sono ancora troppe poche le persone che hanno il coraggio di farlo? Assolutamente sì, soprattutto è poco conosciuto anche il percorso e gli strumenti che lo Stato mette a disposizione per venire fuori da momenti di difficoltà come quelli del racket dell'usura. e quindi diciamo si somma la mancata conoscenza degli strumenti e quindi della possibilità di ottenere risorse per venire fuori da momenti di difficoltà. Si aggiunge naturalmente poi la paura, la preoccupazione, il disagio, soprattutto nei casi di usura, la vergogna e tutto questo dobbiamo superarlo perché la situazione rende necessario un salto di qualità secondo me su questi temi. Il recente rapporto della DIA ha messo in evidenza che la provincia di Salerno resta uno dei territori dove il fenomeno è fortemente attivo. In più siamo proprio il giorno dopo ad un ennesimo attentato che ha riguardato la città di Nocera Inferiore con le istituzioni a partire dal sindaco che si ribellano e chiedono la risposta dello Stato. Qual è la risposta dell'assessore regionale alla sicurezza? Che saremo a Nocera martedì, ci saremo col Procurato della Repubblica, naturalmente però non è che noi possiamo risolvere i problemi delle persone che non trovano il coraggio, la voglia o anche la fiducia nelle istituzioni, noi cerchiamo naturalmente di ispirarla, la fiducia nelle istituzioni, di far conoscere le possibilità che ci sono e che ci sono tante e naturalmente poi le forze di polizia fanno la loro parte, però ci vuole un po' di responsabilità anche della comunità civile, un po' di coraggio insomma e non tirarsi indietro. Invece le risorse sono lì e molto spesso non vengono nemmeno richieste proprio perché in un meccanismo nel quale evidentemente ci si nasconde o si teme o ci si vergogna o non si conoscono le possibilità che ci sono. E nel corso dell'incontro, nel camper della legalità, gli studenti di alcune scuole salernitane hanno potuto ascoltare anche la toccante esperienza raccontata da Tiziana, un'imprenditrice che è stata salvata dopo la denuncia ai carabinieri di Battipaglia e attraverso l'associazione SOS Anti-Racket. In realtà mio padre mi diceva sempre se tu non denunci non esci mai. Il problema è che quando si è in queste situazioni pensi sempre alla famiglia. Avevo paura di denunciare perché avevo paura che potessero fare del male ai miei familiari, come mi veniva minacciato di uccidere i miei nipoti e di fare del male alla mia famiglia. Però nei momenti in cui mi hanno preso le chiavi della macchina e quel giorno mi sono rivolta vicino alla stazione per buttarmi giù sotto il treno. Ho detto no, ha ragione mio padre. Quindi con lui mi sono decisa di andare a denunciare. Poi tramite i carabinieri ho conosciuto l'avvocato Battaglini. Da lì mi hanno fatto tutta la procedura con OSS Impresa. Poi lì ho accesso ai fondi e come ho detto all'interno io non ho soffrito di tutti i fondi. Ho tolto solo quei debiti che mi ammassacravano perché ho un'attività, ringraziando Dio da 20 anni. Negli ultimi cinque anni mi sta andando benissimo perché sto investendo e cerco sempre di crescere. Le posso dare un dato che è un dato di denuncia degli ultimi sei mesi. Noi abbiamo raccolto due denunce sud, est e ovest Salerno. Un imprenditore della ristorazione e un rappresentante di commercio. Sono iniziati anche i processi per questi due. Proprio ieri nel Cilento un imprenditore ha depositato denuncia per usura con capitali molto importanti ricevuti. È una decisione di denunciare maturata proprio perché si è fatto capire dell'importanza della denuncia.